Ciao a tutti! È passato un anno! E siamo qui per fare un recap anuale di YouTube! In questo video vedrete quando abbiamo guadagnato dopo un anno, cosa abbiamo imparato e quali sono le nostre opinioni dopo un anno di YouTube. Ovviamente questo è il primo, noi puntiamo ad arrivare a 156 anni di YouTube, ma una cosa è facile e semplice. Dobbiamo spostare questo divano. Ciao a tutti! Ah, la spalla! Finalmente! Hai forcato tutto di terra! Vabbè, a me! Terremo per ultima la domanda più importante, ovvero quanto abbiamo guadagnato. In questo video di sorprese ce ne saranno tante. Esattamente un anno fa, ovvero il 12 dicembre 2022, abbiamo caricato il nostro primo video su questa piattaforma stupenda. E oggi, ad un anno di distanza, siamo qui a fare un'analisi del nostro percorso su YouTube. Qual è, Marco, secondo te, il miglior video che abbiamo caricato? Allora, devo pensarci un secondo. Il miglior video, secondo me, ultra sottovalutato, è il nostro documentario, che non ha guardato nessuno, però è strafigo! Le riprese sono fatte da un fotografo professionista. Che taghiamo da qualche parte. I video che preferisco sono due, e sono la costruzione dell'armadio e la costruzione del carro armato, perché a me piacciono le costruzioni. E come terzo vorrei mettere anche la costruzione del rifugio nel bosco, che anche quella è una gran figata. Molto spartano, ma molto figo. Un altro video che mi è piaciuto tantissimo è quello dove abbiamo esplorato i canali della nostra città. Avevo comprato un gommone, 50 euro di gommone, e siamo andati in giro per tutti i canali della mia città. E il bello è stato che due giorni dopo ero in ospedale, con appendicite, mi hanno operato. E' uscito un video anche su quello, quindi mi sono preso qualche infezione strana in quei canali. Quindi, allora, voglio spiegare. Innanzitutto, quando abbiamo aperto il canale, è stata una cosa totalmente casuale. Era un sacco di tempo che io e Francesco volevamo aprire un canale, ma non l'abbiamo mai fatto. All'inizio non avevamo idea di che contenuti avremmo voluto portare qui, in questa piattaforma. Ma non lo sappiamo neanche adesso. No, infatti portiamo tutto quello che ci passa per la testa. Tutti dicono, bisogna seguire una nicchia, devi fare così per crescere, così quella... A me non me ne sbatte un c***o, io sono così, porto quello che piace a me. Se a voi piace bene, se non vi piace, non seguitemi. Ma questa è la nostra filosofia. Esatto. Poi seguiteci lo stesso. Inizialmente, come si può notare nei primi video, eravamo molto imbarazzati davanti alla fotocamera. Col tempo siamo migliorati e col tempo miglioreremo. Una cosa che vorrei dire è che fino ad ora tutti i contenuti che potete trovare nel nostro canale, sia video, immagini, musica e tutto quanto, è gratuito. Non abbiamo speso un euro per nessun programma. Ma da poco ci stiamo avvicinando e stiamo cercando di passare al livello successivo. Esatto. Infatti, vogliamo iniziare a usare il Photoshop. Per registrare tutti i nostri video abbiamo utilizzato l'iPhone 13 di Francesco, perché io ho questo telefono di merda, che è inutile. E a breve però farò un upgrade anch'io. Prenderemo una GoPro. Non è vero. I prossimi video vedrete. I prossimi video. Il mio telefono, c***o. Perché non è mezzata a te. Ora parliamo dei punti più importanti che ci hanno fatto crescere in quest'anno di YouTube. La prima cosa che ci ha fatto crescere in assoluto è stata la pubblicità fatta da Michele Molteni, che ringraziamo. Perché uno dei primi video che abbiamo fatto e che abbiamo caricato quando avevamo ancora meno di 100 iscritti era proprio la costruzione della casa di Michele Molteni in cartone. Quel video è sempre andato durante il primo periodo ed era arrivato a 5.000 visualizzazioni senza nessun tipo di sponsorizzazione fino a quando non è arrivato a Michele Molteni. E Michele Molteni ci ha fatto pubblicità e ha fatto 8.000 visualizzazioni in 24 ore portandoci un sacco di iscritti. Per cui grazie Michele Molteni. A proposito di questa parentesi voglio dire una cosa. Ovvero che uno dei miei primi obiettivi quando ho aperto sto canale era quello di riuscire a diventare in un certo senso amico di Michele Molteni. Non dico che siamo amici ma dico che almeno adesso sa che esistiamo. Quindi è un avvicinamento verso una cosa molto importante per me. Il secondo video che ci ha dato una grossa mano per l'escalation di YouTube Italia è stato il video di Dove Metto More. Quel video là ci ha fatto entrare nel giornale, ci ha fatto ricondividere da un sacco di persone. Ringraziamo anche i ragazzi di Dove Metto More. Ora siamo qui per la parte divertente di questo video ovvero qual è il video che ci è piaciuto di meno del nostro canale. Devo studiare un attimo e tra poco avremo la risposta. Io ce l'ho già. Morning routine sotto la pioggia. Un video fatto col culo da papuchi e fatto tipo dicendo dovevamo andare a fare una colazione tipo intrigante in un torrente in montagna. Il problema è che non sapevamo che il torrente faceva un botto di rumore quindi non si è sentito un cazzo. Pioveva. Era freddissimo. Era freddissimo non vedevamo l'ora solo di tornare a casa. Ma poi non è che fa schifo quel video. È che non ha senso. Perché di per sé è stata una bella esperienza. È una cosa un po' diversa dal solito, un po' fuori dal comune. Però è una cosa... Cioè forse ci è uscita male ecco. Però per non lasciare un buco l'abbiamo fatto uscire. Ed è bellissimo il fatto che stiamo cercando da 20 minuti e nessun altro video ci fa cagare. Quindi... No no è quello, assolutamente è quello. Anche dal mio punto di vista il video è un po' meno bello è quello lì. Ah un video secondo me estremamente sottovalutato che dovete vedere è quello in cui abbiamo provato a cucinare un panino, a creare un panino sopra un'auto in corsa. Cioè quel video è fotonico e non l'ha visto nessuno. Ok che non sapevamo editare, non sapevamo fare le riprese, non sapevamo fare un cazzo. Però l'idea è strafiga. Infatti se non l'andate a vedere lo rifaremo. Allora adesso siamo quindi nella parte più succulenta del video in cui andremo a dire quanto abbiamo guadagnato in quest'anno di YouTube. Sono sicuro che tutti voi penserete che questi qua non hanno guadagnato un euro in un anno in alcuno. Invece non è vero perché siamo andati in perdita di tipo 500 euro no? A testa. A testa. No dai 500 a testa no però siamo andati in perdita. A prima cosa sto computer, 1000 euro di computer solo per fare i video. No in realtà non è vero però facciamo finta che sia così. Uno spara patate che non funziona, un carro armato 70 euro non serve a un cazzo. Un armadio abbiamo speso altri 30-40 euro, una roba del genere e anche quello è inutile, totalmente inutile. Tutti i soldi per le varie esperienze, gommone. Siamo in perdita e questa cosa per dire cosa? Che è un investimento, non è una perdita. Perché nei prossimi anni questi soldi qua li riprenderemo tutti il quintuplo. Li prendo un M3 al prossimo anno. No sta merda. E un'altra cosa da dire che in quest'anno di video, ad oggi, siamo riusciti a fare 87 video. Da suddividere ovviamente in shorts e video lunghi. Circa metà e metà. Una cosa molto bella che però abbiamo guadagnato in quest'anno è la capacità di editare, di guardare razionalmente dei video o delle foto per le copertine. E ci siamo divertiti in una maniera che non potete capire. Io non sono mai stato così tanto felice nella mia vita. No è vero, è vero perché c'è proprio una cosa figa. Sarà che ci piace fare questo e quindi ci divertiamo, però tutto quello che abbiamo fatto, c'è proprio un bagaglio culturale di esperienze qua dentro che senza il canale non avremmo mai fatto. Ora parleremo delle nostre analytics, quindi di come siamo cresciuti numericamente parlando durante questo anno. Come potete vedere, il primo periodo non abbiamo fatto un cazzo di visualizzazioni. Infatti il primo periodo era un po' quel periodo dove ci vergognavamo davanti alla fotocamera, non sapevamo se volevamo fare quello o se avremmo paccato tutto dopo poco. Abbiamo fatto tutto un periodo che va dal 4 febbraio a marzo, dove non abbiamo caricato niente. Però c'era qualcosa tra di noi che ci faceva dire continuiamo, non fermiamoci, continuiamo. Da quando è iniziato il secondo semestre dell'università abbiamo detto ora ci impegniamo e ogni cazzo di settimana abbiamo portato un video su YouTube, almeno un video e almeno uno shorts, che potevano essere anche due shorts o tre shorts alle volte. Da questo punto in poi abbiamo iniziato a ricondividere su Instagram, aprire la pagina TikTok. Come si può vedere abbiamo sempre una crescita un po' altalenante. Quello che si può vedere è una crescita e come si può vedere dai picchi stiamo crescendo sempre di più. Il massimo di visualizzazioni che siamo riusciti a fare in un giorno in quest'anno sono esattamente 16.886 visualizzazioni. Il divano è scomodo quindi lo giriamo. Ricapitolando, il video con più visualizzazioni del nostro canale ad oggi ha un anno fatto con 13.000 visualizzazioni circa. È il video di Michele Mazzini. E il secondo video è quello dove abbiamo analizzato la caduta di Dovevetto More. E il terzo, quanti chilometri servono per scadicare una penna. Tradotto in parole povere, non ci ha cagato quasi nessuno, però ci sta. Un piccolo consiglio che voglio dare a tutti i nuovi neofiti youtuber è quello di concentrarsi non solo sui video, anche se, come penso abbiate capito, ma noi ciò che preferiamo sono i video lunghi. Consiglio anche di fare gli shorts. La cosa bella degli shorts è proprio il fatto che sono condivisi a molte più persone e quindi è molto più facile entrare in contatto col pubblico. Mentre i video lunghi devono essere cliccati, deve esserci una bella copertina. È più difficile far aprire un video lungo che uno short. Quindi concentratevi anche sui shorts. Non cagare i commenti degli shorts. Perché se guardate i commenti degli shorts, sono tutti cinquantenni irritati dalla vita che devono commentarvi. Se riuscite a utilizzare questa gente qui per farci una parte di video, come nel video del giornale, avete vinto. Tutti i commenti positivi che vi sproneranno ad andare avanti saranno nei video lunghi. Qual è stato il video più difficile da fare durante quest'anno di YouTube? Allora, sicuramente il video che ci abbiamo messo più tempo a registrare è stato il video del caro armato. No. Michele Molteni. No, secondo me il caro armato è stato più difficile. Tu dici questo. Allora, secondo me il video più difficile è stato il caro armato perché ci abbiamo messo tre giornate diverse, abbiamo speso più soldi e più ore di lavoro, eravamo in quattro. È stato quello più complesso. Secondo me il video più complesso è stato quello di Michele Molteni perché abbiamo dovuto studiare tutti i video, guardare attentamente la casa, come si era disposta e tutto. Il video in cui mi sono divertito di più è stato quello sul gommone perché posso assolutamente dirvi che una volta in cui mi sono messo sopra il gommone ed ero sopra all'acqua, io ero nel relax più totale. E il secondo la torta sull'acqua. No, che quello fotonico, freddo, clamoroso. Una cosa molto importante e che ci tenevo a fare è quella di ringraziare tre persone che sono state molto vicine a questo canale di tutto. Ci hanno aiutato sempre, sono state sempre con noi. Quando scrivevamo davano sempre la disponibilità, per cui è un grazie assoluto. E vogliamo ringraziare Gabriele, Francesco e Delrico perché senza di voi non avremmo fatto tutti questi video. Esatto, e siete parte anche voi di questo canale. E ovviamente ringraziamo anche voi 1300 iscritti perché ad oggi abbiamo 1300 iscritti. Questo format lo potremmo riproporre tutti gli anni perché vedrete come nei prossimi anni auspicabilmente cresceremo. Una cosa vogliamo fare adesso, ovvero adesso registreremo un video che voi non vedrete ma lo vedete nel recap dell'anno prossimo in cui diremo a cosa vogliamo arrivare entro l'anno prossimo e vediamo se tutto ciò si avvererà. Siamo arrivati a un anno di YouTube. Ciao ragazzi. A distanza di un anno siamo di nuovo qua. Siamo tornati nel posto del primissimo video. Stra illegale ma noi ci siamo tornati per voi. Grazie a questa S e grazie a Francesco che da questa S ha dedotto il nome del canale. Noi qui siamo stati concepiti per la prima volta. L Marine. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo in un prossimo video. Abbiamo tantissimi contenuti. Ciao.